Delle nuove leve di Cosa Nostra parlava con disprezzo, accusava i giovani boss di scarsa tenuta, ma il suo cuore e soprattutto i suoi affari continuavano ad essere legati a doppio filo a Cosa Nostra. Nonostante gli anni di carcere scontati e la certezza di essere ancora oggetto delle attenzioni degli inquirenti, Giuseppe Guttadauro, ex primario dell'ospedale civico di Palermo, storico padrino del mandamento mafioso di Brancaccio, non ha mai interrotto i suoi legami con le cosche e nelle scorse ore è stato arrestato con l'accusa di associazione mafiosa. La galera, l'aveva lasciata nel 2012, dopo tre condanne ormai definitive, si era trasferito a Roma proprio per tentare di non destare le attenzioni degli inquirenti, ma attraverso il figlio Carlo, anche lui finito in cella, continuava a decidere le sorti delle famiglie mafiosi palermitane e trafficava in droga. L'inchiesta che ha svelato gli affari dell'anziano capomafia, coordinata dalla DDA di Palermo, nasce dalle indagini per la ricerca del boss Matteo Mesina Denaro, il fratello di Guttadauro, Filippo, e cognato del padrino ricercato. Da Roma, il dottore, così lo chiamavano gli uomini d'onore, dirimeva le controverse tra i clan sull'esecuzione di lavori edili commissionati da Leni a Brancaccio, progettava la costruzione di un grosso distributore di carburante, gestiva, insieme al clan di Bagheria e Roccella, un traffico di droga, occupandosi dell'approvvigionamento della cocaina dal Sud America e dell'Ascish dall'Albania. Il giudice, che lo ha messo ai domiciliari, sottolinea il ruolo ancora decisionale di Guttadauro, che, forte della sua caratura mafiosa, ancora poteva dirimere i contrasti insorti sul territorio e risolvere con autorità parastatuale le vertenze criminali.